All'Angelus, Papa Francesco leva la sua voce per i cristiani uccisi in Pakistan in diversi attacchi kamikaze, presi di mira, ricorda, solo perché cristiani. Mentre assicuro la mia preghiera per le vittime e il loro famiglio, chiedo dal Signore, imploro dal Signore, fonte di ogni bene, il dono della pace e la concordia per quel Paese. E che questa persecuzione contro i cristiani, che il mondo cerca di nasconderla, finisca e ci sia la pace. Vicinanza è stata poi espressa dal Papa anche alla popolazione delle isole Vanuatu, nell'oceano Pacifico, colpite da un forte ciclone. Prima della preghiera mariana aveva ricordato che il Vangelo, la fede e la teologia possono essere riassunte in una frase, Dio ci ama di amore gratuito e sconfinato. Poi ripercorrendo le letture di oggi, il Papa aveva ricordato che è nella creazione che si affonde questo amore e che in tutta la storia della salvezza risalta la gratuità di Dio. Il Signore sceglie il suo popolo non perché se lo meriti, ha affermato, ma proprio perché è il più piccolo tra tutti i popoli. Francesco ha poi messo in luce che Dio ha scelto di stringere un vincolo nuovo nel sangue di Gesù. La croce è stata infatti la prova suprema del suo amore, un amore sempre grande, pieno di misericordia e di perdono.